Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 13 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su Fuzzimib e su DAX. Partiamo dal Fuzzimib appunto. Per quanto riguarda la centratura, siamo per ora sereni che stiamo andando tutto secondo le attese, anche se ieri mi aspettavo una discesa, per il fatto che comunque siamo veramente tanto impiccati a rialzo. Il discorso è che però, come vi racconto sempre, se non iniziamo a mollare dopo una violazione anche soltanto di swing inverso, e qua c'è la strata, e iniziamo ad andare giù di volumi, se non ci sono i volumi che seguono la direzione dello swing, non si fa niente, anzi si va dall'altra parte e infatti abbiamo continuato a salire in tendenza. In questo caso siamo arrivati con il settimanale di indice, eccolo qua, quello che lancia in realtà il nostro T2. Lo metto per sicurezza. Siamo arrivati già su, siamo arrivati al nono T-3, qui non c'è stata una chiusura di settimanale, teoricamente se non abbiamo fatto un qualche cosa di strano a 5 giorni che non ho mai visto per ora appunto su DAX, e bisogna vedere se qui è partito un nuovo ciclo inverso, l'undicesimo che sarebbe l'ultimo comunque, e quindi se rischieremmo comunque di avere ancora perlomeno 2-3 candele a rialzo, nonostante l'apertura ci dica che siamo a meno 60 punti, oppure se semplicemente qui ha chiuso il decimo T-3 inverso, e con esso probabilmente anche il nostro settimanale inverso. Anche il bisettimanale inverso, 43 barre, sono tranquillissime, serenissime, anzi 42 sono perfette per un decimo T-3 inverso per andare a chiudere. A questo punto bisognerebbe iniziare, esattamente come già dicevo ieri, a cedere l'altro indice, ovvero anche in questo caso siamo a nono T-3 che potrebbe essere arrivato ancora a 39 barre, piuttosto che essersi chiuso qua a 26 e aver fatto partire il decimo T-3, in caso di violazione di questo swing a 20.302 dovremmo di nuovo vedere se seguiranno volumi questa volta in disceso, oppure se dopo una violazione si tornerà a salire. Per cui attenzione in modo particolare ai volumi in questo periodo, soprattutto poi i volumi così bassi e già estivi. Di nuovo, le divergenze continuano a sprecarsi, quindi divergenza di inversione ribassista ce l'abbiamo serenamente, bisogna però vedere, come detto, i volumi. Se andiamo a vedere poi oltretutto il grafico giornaliero, ecco, qui tranquillamente una chiusura di T-1 inverso, ce l'abbiamo, siamo arrivati persino già a 17 giorni, a un giorno in più rispetto a quella che è la durata media. eccolo qua, quindi 1 e 2. A questo punto dovrebbe seguire spinta a ribasso, ma ripeto, senza volumi, vedremo. Più difficile invece sul DAX perché c'è il rischio di un 3 tempi iniziato qua, 3 tempi di inverso, per il fatto già che qui siamo andati oltre l'undicesimo T-3, ok? Vedete che qui, questo potrebbe essere già alto e qui potrebbe essere partito un nuovo T-1 inverso che fa un terzo movimento, infatti l'ho segnato anche qua, ok? Però anche in questo caso siamo arrivati a 9T-3. C'è stata una chiusura potenzialmente precedente? A 5 giorni, di nuovo, mi sembra difficile, non la vedo in questo momento, però bisogna vedere che oggi si scende effettivamente, perché se oggi non si scenderà, difficile che non si debba tenere in considerazione qualche cosa di differente. Notate infatti queste cose qua. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.